Un progetto per Torino Sicura viene da Asco, da Secroshop, in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Spesso si pensa alla sicurezza degli esercizi commerciali, ma questa volta sono gli esercizi commerciali che partecipano alla sicurezza della città. Come funziona? Attraverso un sistema di videosorveglianza? Sì, semplicemente il progetto del videoallarme antirapina nasce dal Ministero dell'Interno su richiesta specifica delle associazioni di categoria. Esso offre la possibilità di connegare direttamente alle Forze dell'Ordine tutti i negozi, tutte le attività economiche e gli operatori economici che hanno necessità di sicurezza o che vogliono partecipare a un progetto di caratura provinciale, di caratura nazionale. Questo è l'elemento fondamentale per il quale si viene ad offrire ovviamente per la prima volta un concetto di sicurezza integrata. Il progetto arriva a Torino ma è già stato sperimentato anche a Milano. Assolutamente sì, in tutta Italia, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, dove ci sono moltissimi collegati in tutte le province principali. Oggi si è esteso in 102 province con una copertura presso le sale operative di questura e comandi provinciali dei carabinieri che sono per 204 postazioni. Queste strutture hanno la possibilità in diretta di gestire tutti gli operatori di polizia che intervengono contro i reati predatori o le violenze sulla persona direttamente in tutte le città. Quindi da lì, grazie all'utilizzo del radiomobile, polizie e carabinieri hanno contezza immediata dell'evento in corso. Se aggiungiamo ai luoghi del commercio anche la sicurezza, credo che sia assolutamente importante per i clienti, certamente per gli imprenditori senz'altro, ma per i cittadini in genere. Passeggiare, camminare, vivere in un territorio video-servegliato dà sicuramente un senso di sicurezza e di tranquillità superiore rispetto ad altri. Quindi questo progetto vuole sensibilizzare il privato in un momento in cui le finanze pubbliche sono sicuramente un po' in difficoltà. Il privato integra con telecamere, con la video-sorveglianza, le vie, le piazze e i luoghi del commercio. Quindi un territorio più ampio. Quanti esercizi commerciali siete riusciti a coinvolgere in questa prima fase? Diciamo che questa è proprio una primissima fase perché oggi la conferenza stampa decreta un progetto che partirà nei prossimi giorni. Ma già ci sono su Torino circa 150 esercizi collegati. Certo poi ci sono settori particolari, particolarmente interessati alle sicurezze. Certamente le gioiellerie sono un settore sensibile come i tabaccai, come le farmacie. Quindi diciamo che ci sono dei settori che storicamente hanno il tema della sicurezza alla base della propria attività e quindi sono quelli che di solito per primi aderiscono. Però ormai il tema della sicurezza c'è davvero ovunque. Quindi crediamo di interpretare in questo modo un servizio in più alla città e ai cittadini.